salve a tutti wachikbari io sono super geomaster e benvenuti in questo nuovo video beh che dire è uscito il trailer di mario kart tour che sarà disponibile per cellulari credo anche ipad ecco qua bene adesso è fatto il momento di fare la reaction spero che si veda bene tipo non lo so è ok o ecco i piloti o questo è un circuito nuovo che mario luigi ok c'è pitch bowser stanno tutti usando la stessa macchina quella tubi ok cupa donkey kong è tornato oh questo ok un circuito in giappone questo è nuovo ragazzi ok tornata daisy quindi occhio ok oh parigi bello oddio ok ah ci sarà un tipo delle scorciatoie ok ah la pista arcobaleno ok rosalinda è confermata raga wow luigi pinball grande ragazzi l'hanno messo fantastico oh oh gli oggetti di double dash sono tornati la banana gigante oh wow e questi oh il fungo gigante di mario kart wii tipo timido chef mario che fa la dub oddio cosa ho visto no rega la macchina di bowser di mario kart wii mario kart tour 25 settembre io pensavo tipo alla fine dell'agosto what the fuck oh mio di ragazzi oh my god ecco qua mario kart tour questo è il trailer ufficiale e sembra davvero molto interessante perché i piloti adesso guideranno intorno al mondo esattamente quindi abbiamo visto che c'è giappone poi sembra anche londra parigi forse ci sarà anche l'italia roma venezia non lo so la cosa interessante che poi sono tornati anche alcuni kart di mario kart wii e mario kart 7 e a tantissimi altri circuiti per esempio warwigi pinball un'altra cosa importante che su wikipedia hanno annunciato i vari personaggi per esempio c'è anche tartosso ci sono un paio di bowserotti e sembra che adesso potete pure personalizzare il personaggio con dei costumi avete bene visto che c'è un tipo timido chef il mario della band di paolin di super mario odyssey eccetera eccetera ragazzi gioco sembra interessante sembra davvero ben fatto e secondo me diventerà presto uno dei migliori titoli in assoluto ah è un'altra cosa molto importante io spero tanto che in questo gioco ci saranno solamente personaggi di mario perché io non voglio vedere di nuovo l'incapitante gli inkling fuffi in questo nuovo gioco è chiaro mi